Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it quest'oggi vedremo come far comunicare Premiere con Audition in altre parole vedremo l'integrazione tra Adobe Premiere ed Adobe Audition negli ultimi anni sempre più funzionale, sempre più performante quindi credo sia un tutorial molto interessante per tutti coloro che terminato un montaggio video vogliono in qualche modo migliorare l'aspetto audio della propria produzione facendo un buon messaggio, aggiungendo delle musiche, aggiungendo effetti, compressori per preparare il nostro prodotto alla grande distribuzione prima però vi ricordo se volete di venirmi a trovare sul sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete anche gli articoli di questi tutorial per magari approfondire qualche aspetto per recuperare qualche aspetto che vi serve al volo e volete leggere invece che ascoltare da un tutorial se vi fa piacere iscrivetevi anche al canale youtube così da non perdere i prossimi video tutorial di prossima uscita e chiaramente commentate, commentate questi video, commentate gli articoli sul sito per interagire con gli altri utenti magari qualcuno vuole aggiungere qualcosa, vuole correggere qualche informazione o vuole anche semplicemente fare domande quello che vedete davanti ai vostri occhi è un progetto Premiere importato in Audition è facile capirlo dalla quantità di oggetti multimediali presenti in questa sequenza ma iniziamo subito il tutorial partendo però da Adobe Premiere eccoci in Adobe Premiere, una sequenza molto semplice chiaramente questo non è un tutorial su come fare un messaggio audio noi oggi ci limiteremo semplicemente a capire come spedire il materiale da Premiere ad Audition troverete sicuramente altri tutorial ad hoc nelle prossime settimane nei prossimi mesi sul sito fabbiambrosi.it oggi dicevo ci concentreremo sulle operazioni da fare per spedire un pacchetto audio da Premiere ad Audition esistono diversi modi per mandare del materiale multimediale da Premiere ad Audition possiamo spedire una singola clip per esempio se vogliamo, non so, correggere un ronzio particolarmente fastidioso al volo possiamo spedire un'intera sequenza se vogliamo fare un mixaggio del nostro lavoro oppure possiamo direttamente aprire un progetto in Adobe Audition senza aprire per niente Premiere iniziamo dal primo caso ovvero come spedire una clip audio dentro Adobe Audition questo è un audio molto semplice potete sentire un cucchiaino che viene girato dentro una tazzina poi vari rumori e alla fine di questa clip quando tutto è andato a buon fine nella difficilissima operazione di inserire dello zucchero nel caffè il cucchiaino viene gettato via per spedire questa clip audio direttamente in Audition abbiamo due modi o cliccare con il tasto destro del mouse sopra al nostro oggetto audio e poi scegliere la voce modifica in Adobe Audition oppure sempre con la clip audio selezionata possiamo andare sul menu modifica scegliere modifica in Adobe Audition e ancora una volta scegliere la voce clip una volta cliccato il file viene inviato ad Audition qui noi possiamo fare tutte le operazioni che vogliamo per esempio possiamo guardare lo spettro delle frequenze ipotizziamo di voler rimuovere un suono, una sirena, un cellulare che squilla qualunque cosa noi vogliamo fare complessa dentro ad Audition ipotizziamo per esempio di voler rimuovere questa frequenza che non ci piace via, ecco quello che viene fuori ok, una cavolata eh, capiamoci un'operazione che non ha praticamente senso però per studio ipotizziamo che noi vogliamo fare questo effetto ok, salviamo chiaramente la clip con il tasti CTRL S e una volta tornati in Adobe Premiere come potete notare l'operazione è automaticamente stata aggiornata dentro la nostra sequenza oh, questa è un'operazione molto comoda ripeto, se per esempio state montando un'intervista e volete rimuovere un cellulare un suono particolare Premiere già ha a disposizione una suite per rimuovere il disturbo ambientale echi e cose del genere però chiaramente per operazioni più complicate come rimuovere una sirena rimuovere un cellulare o rimuovere un suono un pochettino più complesso sicuramente Audition ha degli strumenti molto più avanzati e inviare una singola clip ad Audition può essere un modo per migliorare solo questa clip ma ipotizziamo di aver fatto un montaggio molto complesso ipotizziamo di voler inviare ad Audition non la singola clip ma l'intera sequenza perché vogliamo, non so, inserire un audio vogliamo migliorare l'aspetto audio del nostro progetto multimediale come si fa? allora è molto semplice in realtà è sufficiente selezionare chiaramente la sequenza che noi vogliamo spedire ad Audition basta cliccare con il mouse dentro la sequenza vedete il bordino blu che ci indica che la sequenza è selezionata andare sul menu modifica scendere alla voce modifica in Adobe Audition e questa volta invece di scegliere la clip scegliamo la voce sequenza scegliendo la voce sequenza si apre una nuova finestrella che noi dobbiamo compilare con alcune informazioni importanti a Premiere per poter portare a termine l'operazione in maniera corretta innanzitutto dobbiamo dare un nome al nostro progetto audio perché quello che noi stiamo facendo adesso sostanzialmente è creare un progetto Audition quindi noi dobbiamo dare un nome all'operazione che noi stiamo facendo per esempio clip test o anzi no, chiamiamola progetto test potete scrivere quello che volete sicuramente però dovete dare un percorso al nostro progetto Audition quindi cliccate sopra sfoglia scegliete la cartella in cui voler andare a salvare il vostro progetto multimediale cliccate chiaramente su seleziona cartella e a questo punto il progetto Audition che stiamo per creare dalla sequenza Premiere viene creato dentro alla cartella che abbiamo specificato oggi sono altre impostazioni da specificare per esempio dobbiamo scegliere se voler importare in Audition tutta la sequenza oppure solo una parte della sequenza segnata da un in e da un out da un attacco e dallo stacco quindi scegliamo per esempio nel nostro caso tutta la sequenza dobbiamo anche decidere come inviare il video ad Audition perché? perché la cosa bella di questa integrazione tra Premiere e Audition è anche nella possibilità di poter inviare nel nostro progetto Audition una preview video per permetterci di sincronizzare al meglio il nostro audio con le immagini che scorrono nel nostro progetto quindi noi dobbiamo dire ad Audition in quale modo deve prendere il video da Adobe Premiere ci sono tre voci tra cui scegliere ovvero la prima è tramite un dynamic link sostanzialmente Audition va ad utilizzare il motore di rendering di Premiere per poter leggere il contenuto video del nostro progetto io lo sconsiglio soprattutto nei progetti complessi con tanti effetti video perché chiaramente essendo un'operazione che viene svolta in tempo reale richiede molte risorse alla nostra workstation quindi fate molta attenzione ad utilizzare il dynamic link c'è la seconda voce che è invece esporta video di anteprima DV in questo caso Premiere crea un video esporta un video che poi Audition utilizzerà per la previsualizzazione dei contenuti video oppure possiamo anche scegliere di non inviare nessun contenuto video ad Audition in questo caso faremo l'editing dell'audio un po' alla cieca come preferite voi la voce successiva sono le maniglie audio cosa sono le maniglie audio? in altre parole quando noi importeremo il nostro progetto dentro ad Audition Audition ci darà la possibilità di avere un numero di secondi in più rispetto alle clip che saranno importate nel caso decidessimo di trimmare un audio in avanti o in indietro è una sorta di scarto se diamo per esempio un secondo di maniglia questo audio verrà chiaramente portato in Audition e in aggiunta se disponibile Audition si porterà dietro anche un secondo in eccesso e in difetto nel caso in cui decidessimo di trimmare in eccesso o in difetto la nostra clip audio quindi è un consiglio io se dovete lavorare ad un mixaggio tenetevi sempre un pochettino larghi c'è un numero massimo di secondi mi sembra che sia 15 o 10 non ricordo esattamente fate un po' di prove comunque lasciamo per esempio 10 secondi di maniglia vanno più che bene poi scegliamo ancora in quale modo vogliamo trasferire le informazioni delle clip audio Premiere ad Adobe Audition cosa vuol dire? vuol dire che se noi abbiamo applicato degli effetti audio un riverbero un echo o un chorus qualunque cosa dentro a Premiere noi possiamo scegliere di spedire questi effetti dentro ad Audition anche qua ci sono diverse opzioni possiamo scegliere di inviare gli effetti così come sono c'è l'opzione di renderizzare le clip con effetti audio non trasferibili cosa vuol dire? vuol dire che se noi abbiamo applicato un effetto audio che non è disponibile in Audition sostanzialmente invece di darci l'effetto non in linea Premiere lo renderizza e ce lo comunque rende disponibile dentro ad Audition c'è poi ancora la voce rendering di tutto in altre parole tutto il nostro audio viene renderizzato con gli effetti che abbiamo applicato in Premiere è una soluzione molto comoda ma poi ci renderà impossibile rimuovere un effetto audio se noi volessimo per esempio rimuovere un eco o qualcosa che abbiamo messo dentro a Premiere quindi fate molta attenzione c'è poi l'ultima opzione che è rimuovi tutto ovvero tutti gli effetti audio applicati dentro a Premiere verranno rimossi nel passaggio ad Audition quindi se abbiamo inserito dei compressori dei riverberi o qualcos'altro dobbiamo poi ricominciare tutto da capo a voi chiaramente la scelta la stessa cosa poi vale per la traccia audio perché chiaramente gli effetti possono essere applicati sia alla singola clip che all'intera traccia quindi anche sulla traccia audio possiamo scegliere di sostanzialmente inviare gli effetti così come sono oppure di rimuovere tutti gli effetti applicati alla singola traccia possiamo scegliere anche di inviare informazioni di PAM e di volume ad Audition in altre parole le informazioni sul canale sinistro o destro che stiamo utilizzando e il volume possiamo anche non inviare queste informazioni per di default la casellina è spuntata potete tranquillamente lasciarla accesa e in ultimo c'è la casellina che ci permette di aprire la sequenza in Adobe Audition una volta terminata l'operazione clicchiamo su ok e guardate cosa succede il progetto viene preparato e come potete vedere ecco ci troviamo adesso in Adobe Audition e la sequenza che avevamo in Premiere viene ora resa disponibile nella sequenza nel sequencer di Adobe Audition fate attenzione perché io per esempio quando ho inviato questa sequenza ho detto di non inviare il video quindi non mi stupisco del fatto che qui non veda nessuna anteprima del contenuto video che stavo lavorando in Premiere se io volessi inviare anche il video chiaramente lo devo specificare come abbiamo visto nella fase di preparazione della sequenza quindi invece di lasciare la voce video su nessuno per esempio scelgo un dynamic link trattandosi questa di una sequenza molto stupida premo ok la sequenza viene inviata ad Audition come potete vedere qui adesso c'è una traccia video oltre che ad una traccia audio io posso vedere in tempo reale il video e chiaramente posso modificare l'audio come voglio posso modificare il pan come in questo caso posso modificare chiaramente il volume posso fare insomma quello che voglio posso aggiungere effetti posso aggiungere musiche e quant'altro attenzione se io poi però vado a salvare qui la sequenza l'operazione non viene resa automaticamente disponibile in Premiere per poter esportare questo audio e per poi riutilizzarlo in Premiere devo utilizzare la funzione esporta di Adobe Audition e in questo caso devo esportare il mixdown multitraccia operazione che mi permetterà di esportare o tutto l'audio o le singole tracce e poi chiaramente rimportarle singolarmente in Premiere c'è poi l'ultima modalità per poter aprire un progetto Premiere dentro ad Audition che è disponibile in realtà dalle ultime due versioni di Premiere e di Audition e questa modalità prevede dentro ad Audition la possibilità di cliccare sulla voce apri scegliere il progetto Premiere che io voglio importare per esempio navigo tra i tutorial scelgo un tutorial per esempio uno degli ultimi che abbiamo fatto scelgo il progetto Premiere che voglio importare doppio clic oppure clic su apri come potete vedere automaticamente Audition non fa altro che importare dentro il progetto Premiere senza chiedermi praticamente nulla l'operazione viene fatta completamente in automatico da Audition attenzione perché poi chiaramente Audition creerà delle cartelle temporanee dentro il progetto Premiere quindi insomma fate molta attenzione a come organizzate le cartelle dei vostri progetti cosa che tra l'altro già abbiamo detto in altri tutorial nel corso di montaggio video con Adobe Premiere per il momento è tutto spero questo tutorial vi sia stato di aiuto commentate se volete questo video commentate l'articolo che è disponibile sul sito www.fabbiambrosi.it iscrivetevi al mio canale youtube per altri tutorial ci aggiorniamo ai prossimi giorni grazie ancora e buon proseguimento